Direttamente dalla sede dei monopoli di Stato di Piazza Mastai in Roma, questa è l'estrazione del Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del nuovo Super Enalotto e la sua innovativa formula di gioco. Super Enalotto ha tre grandi novità. Tante vincite immediate già al momento della convalida della giocata. Si potrà vincere indovinando anche solo due numeri della sestina estratta e soprattutto il jackpot crescerà più velocemente e sarà ancora più ricco. Oggi, sabato 5 marzo, il jackpot ha raggiunto la cifra di 53.612.895 euro, il più alto d'Europa. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via all'estrazione del concorso numero 28. Inizia il mescolamento automatico delle sfere, stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly. Tenete strette le vostre ricevute. E in arrivo il primo numero. Il primo numero estratto e il numero sei. Siamo al secondo numero. Con il nuovo Super Enalotto si inizia già a vincere. Il secondo numero estratto e il numero 68. Il terzo numero sta arrivando. il terzo numero estratto e il numero 77. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto e il numero 80. Adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto e il numero 8. È il momento di incrociare le dita. Stiamo per completare la sestina vincente. Il sesto numero estratto e il numero 86. Dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. Il numero jolly di questa sera è il numero 27. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine d'estrazione ed il numero jolly. 6 68 77 80 8 86 numero jolly 27. E ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. E ora procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e preme anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna. Pronti? Il numero superstar di questa sera è il numero 39. Ricontrolliamo tutti i numeri strati del concorso numero 28 in ordine crescente. 6 8 68 77 80 86 numero jolly 27 superstar 39. E l'estrazione di oggi sabato 5 marzo termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate. Ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 53 milioni e 600 mila euro, il più alto d'Europa, è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati. Abbiamo appena estratto i numeri vincenti del concorso numero 28. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del nuovo super in allotto assegna 447.398 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 53 milioni e 600 mila euro, il più alto d'Europa. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di super in allotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 54 milioni e 600 mila euro. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 sono 28 e vincono 6.887 euro ciascuno. I 4 sono 894 e vincono 217 euro ciascuno. I 3 sono 25.794 e vincono 22 euro ciascuno. I 2 sono 383.277 e vincono 5 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state assegnate ben 13.929 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna, una delle grandi novità della nuova formula di gioco. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella, i 4 stella sono 4 e vincono 21.715 euro ciascuno. I 3 stella sono 129 e vincono 2.283 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 1.754 due stella, 10 euro vanno ai 11.347 uno stella, 5 euro vanno ai 24.171 zero stella. Vi ringrazio per essere stati con noi. Il nuovo Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 8 marzo. Giocheremo per un jackpot di 54.600.000 euro. Arrivederci! Grazie! Grazie!